Dirlo formalmente, noi lo siamo sempre stati e non a corrente alternata. Il Presidente della Regione Liguria in tutti questi anni, nei due mandati, non solo è stato un buon governatore, ma ha governato bene nell'interesse della propria Regione. C'è un'indagine in corso, vedremo gli sviluppi di questa indagine. Per la mia poca o lunga esperienza ho assistito anche ad arresti, in questo caso ai domiciliari, che poi si sono trasformati in un nulla di fatto, come io mi auguro che si trasformi. Ma impariamo a distinguere le cose, a credere nell'azione della magistratura e dall'altra però a far sì che il principio di innocenza e di presenzione di innocenza c'è sempre e non a correnti alternati. Quindi fermano le dimissioni di Totti? Questo lo valuterà il Presidente Totti. Ho visto Presidenti che si sono dimessi nella storia, non vorrei citare Ottaviano del Turco, piuttosto che altri o Ministri che si sono dimessi, che poi... Anche lei si è dimessi. No, scusi, intanto io non sono mai stato indagato, perdonatemi nella cosa. Ma questa è una... No, aspettate, questo appartiene alla responsabilità e alla sensibilità di ognuno e ognuno deciderà come fare. Ma rincorrere le inchieste della magistratura riguardo al governo delle istituzioni è sempre un errore.